Ciao! Abbiamo tre domande, sei pronto? Vai, prontissimo! La prima è, sembri un po' giù, un po' triste, c'è qualche motivo particolare? Eh sì, ce ne sono in realtà cinque di motivi particolari, Laura, Chris, Jesse, Anna e persino Giuditta. Tutte cinque, tutte cinque mi hanno lasciato. Purtroppo non abbiamo tempo di sentire tutte quante le storie, ma c'è un fattore comune tra tutte queste situazioni in cui sei stato lasciato? Beh sì, io e il mio comportamento. Penso di comportarmi sempre correttamente e invece no, poi va tutto all'aria e finisce che mi scaricano, ecco. Vedo che hai delle cuffie da intenditore. Sì, ecco, questa è una cosa che non mi lascerà mai, la musica, la passione per la musica. Le canzoni, le canzoni sono quella cosa che riescono a portarti all'apice, ad avere degli orgasmi e riescono anche però a buttarti giù, riescono a farti sentire di un male che quasi solo le donne ce la fanno. Per stavolta abbiamo esaurito le domande, ma mi piacerebbe per la prossima volta avere la top 5 delle tue canzoni preferite. Sarà fatto. Ciao.